E lascialo andare, si è giovani una volta sola. Stiamo parlando sul tatto di qualche giorno nell'arcipelago, giusto? Una bellissima storia che evidenzia lo splendore e i latti più scuri dell'estate svedese. L'estate senza ritorno è molto più di un giagno, è un romanzo profondo che racchiude un messaggio che non può lasciare indifferenti.